MotoGP, Ducati dominatrice, quarto titolo costruttori nella MotoGP! Cari appassionati delle due ruote, benvenuti su The Sport News! Oggi ci troviamo a parlare di un trionfo che ha scosso il mondo della MotoGP, una vittoria che ha fatto tremare il paddock e fatto esplodere di gioia i tifosi della casa di Borgo Panigale. La Ducati, con un quarto titolo costruttori consecutivo, ha dimostrato ancora una volta il suo dominio nella massima categoria delle corse su due ruote. Nella sprint race di Mandalika, il palcoscenico dell'ultima battaglia, l'intero podio è stato saldamente sotto il controllo delle Desmo 16 GP. È stato un trionfo che ha messo in luce il talento e l'impegno di questa squadra eccezionale. Gigi Dallinia, il genio dietro il successo, ha dichiarato con orgoglio «orgogliosi di un successo che ripaga tutti gli sforzi». Ma non è solo un titolo per la Ducati, è una dimostrazione di eccellenza e dedizione. Questa moto, la Desmo 16 GP, è chiaramente la regina delle piste nella classe regina. Quattro titoli costruttori consecutivi, un traguardo che ha il sapore della gloria, un risultato che fa brillare gli occhi di tutti coloro che amano le corse su due ruote. E se il Mondiale Piloti è ancora aperto, con soli sette punti a separare Jorge Martin e Pecco Bagnaia, la classifica costruttori è stata chiusa con un anticipo spettacolare. Questo successo è la ricompensa per anni di duro lavoro e innovazione. Un omaggio agili uomini e alle donne di Ducati Corse, che lavorano instancabilmente per migliorare questa moto. Parlando di numeri, quest'anno le Desmo 16 GP hanno dominato le piste. Undici vittorie nelle gare lunghe, tra cui cinque di Bagnaia e tre ciascuna per Martin e Marco Bezzecchi. E non dimentichiamoci delle sprint, con ben sei vittorie di Martin, quattro di Bagnaia e una di Bezzecchi. Questi numeri parlano chiaro. La Ducati ha dimostrato di essere una forza inarrestabile in questo sport. Ma il trionfo della Ducati non si è fermato qui. Nel sabato indonesiano, Luca Marini ha fatto la storia con la sua prima pole position nella classe regina. E poi è arrivata una tripletta nella sprint, con l'italiano che ha fatto impazzire i tifosi, chiudendo alle spalle di Martin e precedendo il compagno di squadra Bezzecchi. Questo quarto titolo costruttori è stato celebrato come si deve, con una parata Ducati che ha emozionato tutti. Ma, anche se sembrava scontato, non dobbiamo sottovalutare l'importanza di questo risultato. La Ducati ha dimostrato al mondo intero di essere una forza inarrestabile, una squadra di campioni che lotta per la gloria. Quindi, cari amici, cosa ne pensate di questo incredibile successo della Ducati? Chi sarà il prossimo campione pilota della MotoGP? Lasciateci i vostri commenti qui sotto e non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale The Sport News per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie del mondo delle corse su due ruote. Siamo impazienti di sentire le vostre opinioni!